Iniziata oggi la demolizione dei mappi di San Gregorio frazione alle porte dell'Aquila dove il comune affilata una ditta ai lavori per eliminare quei mappi danneggiati colpiti tempo fa dagli incendi che non avrebbe avuto senso ricostruire. In questa maniera si andrà a riqualificare l'intera area dove attorno vivono ancora molte famiglie. Operazione questa da 150.000 euro che rientra però nel più amplo progetto di riqualificazione e rigenerazione dei mappi e dei progetti case perché entro l'estate saranno abbattuti anche altri appartamenti del piano case. È un primo passo del processo più ampio di razionalizzazione del parrimonio post-sisma. Si parte a San Gregorio ma poi passeremo a Tempera, c'è una gara importante per la realizzazione del servizio civile universale, il provveditorato sta per prendere in carico gli immobili di sassa per la scuola dei vigili del fuoco. Era un obiettivo che ci eravamo dati già dal precedente mandato, quello di riorganizzare questo parrimonio che subito dopo il sisma ha dato una casa a tutti gli aquilani, è stato un intervento sacrosanto benedetto ma che oggi ha cambiato le sue funzioni e quindi noi evitiamo di lasciare relitti in eredità a chi arriverà a governare l'Aquila e a vivere l'Aquila. Quanto costeranno queste operazioni per il comune? Questa non costa molto perché siamo intorno ai 150 mila euro, la gara bandita da Ostra per il servizio civile universale vale circa 5 milioni di euro, per quanto riguarda invece la scuola dei vigili del fuoco il primo lotto è da 15 milioni di euro e siamo in trattativa per averne altri tanti così da poter ospitare il numero di allievi previsti.